Adesso è l'ora della nostra morte, amén. Padre o Maria, viene di grazia il Signore con te. Tu sei il Benedetto, il Benedetto, il Dio del Poso e il Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amén. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli, amén. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci col fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della famiglia, concedi agli sposi cristiani di vivere liberi dagli egoismi e non condizionati dalle diversità, ma disponibili ad accogliersi e a ripetere ogni giorno il loro sì. O Madonna del Pilerio, nostra gloriosa Patrona. Andrò a vederla un Dio, in cielo Patria mia. Andrò a vederla un Dio, in cielo Patria mia. Andrò a vederla un Dio, in cielo Patria mia. Andrò a vederla un Dio, nel grido di speranza, che infonde di costanza, nel viaggio ai dolori. Andrò a vederla un Dio, in cielo Patria mia. Andrò a vederla un Dio, in cielo Patria.